Allora, come ha salito l'ultimo giorno a dire come si chiamerà questo disco, mumble 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 Elio dice, con un entusiasmo bambino, e ancora io invidio, chiamiamolo merda una cosa poi, ammorbidiamo un po' non sarebbe stato merda chiamiamolo merdata un po' più morbido Allora, siccome c'era anche di mezzo quel disegnino lì che già circolava non so perché l'abbiamo detto, forse perché vagamente ricorda è una figata e poi figata e poi figata, perché non ci ricorda quando c'era reggata o reggato e poi figata Il titolo viene scelto sempre sulla base di quello che fa più reader è quello che ci fa girare e scrivere e viene subito l'esempio e poi passiamo subito a questo è l'album bianco prima di diventare bianco era praticamente una quarantina di super lavori di copertine bellissime che i nostri grafici con delle nostre lavoro ci avevano presentato e lui gliele ho distrutti tutti con una puttana chiamiamolo al bum bianco un mese di lavoro e copertino per dichiarando a tutta le nostre lavoro bene